Ciao a tutti e bentornati a questo nuovissimo video. Oggi faremo quello piccolo. Aspettate. Che bello, è un verde acquatico. Bello, mi piace. Faccio il look e ci vediamo per il secondo. Ecco, ritornate. Allora, si vede un pochino, si vede. Ok, qua lo vedo chiaro, lì lo vedo scuro. Io ho utilizzato anche la palette di Nabla. Adesso dopo ve la faccio vedere. Adesso ce la lascio più sopra. Allora, bello e colore. C'è un po' nello smalto di questo. E' uno degli ultimi smalti che avevo comprato. Poi io mi devo mettere lo specchio vicino perché non c'è la cippa. Ho finalmente un po' di sole, un po' di caldo. Infatti è iniziato a fare caldo, caldo. Poi tolgo la pioggia. E' un po' di stress. Vediamo che questo tempo cambia perché ho detto che le prossime due settimane che siamo giù ci tocca beccarci la pioggia. Io beccarmi la pioggia per due settimane che siamo là non è il massimo. Il 17 al 30. Vabbè che non ti fa vedere fino al 30 però. Vedo che il metto cambia tutti i giorni però. E' meno qualche giorno ormai me lo fai fare. Ho le gambe bianche, ho tutta bronzata di cose e le gambe sono bianche. che ho un vestito questo qua che uso e lungo. Gli altri sono leggermente corti e ci devo mettere i leggings. perché appena mi siedo devo coprire le gambe delle gambe che si vede le parti di sotto. Adesso dopo ricarichiamo di nuovo. 1 1 Grazie. E per questo devo prendere anche la valigia, tanto ce l'ho qua la valigia, mi grappa. Faccio un ultimo video domani per prendere la valigia. Quanto l'ho già fatta vedere quella che porto Quanta roba porto dentro Porto la Babyliss e la Cybercrush Quanto ne so E dopo metto correggio Devo caricare ancora il colore Quindi si sparca di nuovo Ecco qua Bingo Bingo Veramente chiaro Avendo gli occhi chiari E poi faccio usare qualcosa di scuro Nero, blu, scuro Marrone, scuro Buon appetito dopo che anche iniziano i mondiali tra un'ora la prima è partita e vabbè senza Italia neanche i qualificati i qualificati poi sbattuti fuori ma anche quelli se sentite casino perché ci sono i rumori fuori che stanno insotturando una casa mi fanno casino preghi nabla la metto un po' sotto è totalmente chiaro, leggero la metto un po' sotto togliamo tutta la palama togliamo come io faccio il contouring devo fare il contouring perché lavo le mani il look è finito, ho messo gli orecchini questi qua che ho comprato martedì a mercato ovviamente vi faccio le fotine, non vi preoccupate questo braccio è qua perché adesso lo sotterò per il battesimo questo non è il make up, anzi non ho anche messo l'ossetto io vediamo un po' volevo comprare la nuova palette di Nabla la sua blooming io ho scoperto che c'è il silicone dentro è vero che con qualche palette ce l'ho anche io però con questo mi sono rimasta malissimo quindi ho rinunciato alla palette poi mi litigano bene il look è finito noi ci vediamo domani per il video ultimo video della settimana perché domenica il video vlog per il viaggio perché faccio la video la faccio domani domani perché domani dove fai i video l'ultimo video make up prima di iniziare ad andare che poi a stare là farò i vlog e basta qualche video make up lo devo fare per forza andiamo un po' anche se non ci vedo bene il tempo dobbiamo farli anzi perché per un po' in un po' di giorni non ho avuto neanche nessuna idea quindi sono andata avanti con un gressanato scusate vabbè sono stata chiamata a Nicola vabbè va bene meno mai che il telefono è silenzioso e basta il look è finito noi ci vediamo domani per un nuovo video mi raccomando iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video ciao a domani ciao a domani ciao a domani ciao a domani ciao a domani